...e di più la torre ha conferrati a Nandre la Chiesa... Berlusconi non è contro la democrazia, è qualcosa di diverso, lui è estraneo alla democrazia, intimamente estraneo, perché è qualcosa che non conosce e non capisce e che comunque gli fa perdere veramente un sacco di tempo. Chi è tempo, sforzi per diventare democratico, strappo. Questa è la prima manifestazione auto-organizzata dalla società civile e non dalla parte o dalla unione internazionale. Penso che questa è la prima volta non solo in Italia, ma anche in Europa, e questa è una grande manifestazione. E i cittadini, come i cittadini, stanno protestando contro un governo che non è un governo vero, è un governo che non capisce la democrazia. ... ... Insieme per l'affermazione dei diritti, di democrazia, di giustizia.